Benvenuti in questo nuovo video di Among Us e questo oggi giochiamo ma è tutto letteralmente mien che nero e tra l'altro i nostri nomi sono con numeri e quindi non si capisce veramente nulla Ma proprio totalmente nulla, cioè a parte il fatto che tutti sanno che io sono 23-17 ma non potevano metterlo E invece gli altri strumenti, sono obbligato moralmente, quindi supporta creator sta 23-17, cioè perché almeno, anche se non è questo il gioco, io muoio per questo supporta creator Allora, devo spiegare, questa partita siamo soltanto in 8 Quindi c'è soltanto un impostore, di conseguenza chiunque sia, poverello, ha già perso, cioè secondo me Bene, come cavolo fai? Dipende se è molto bravo Eh, ma 1v8, va, la vedo veramente gris Dipende se è molto bravo Secondo me non c'è nessuno che ci può riuscire, poi vediamo Ah, rimane l'altro, ma che non mi abbassa Io sono lontano, lo state facendo? No, io ero da tutta l'altra parte, stavo andando in ossigeno ma l'hanno fatto e adesso devo fare tutto il giro per riandare in admin Ok, io sto arrivando, però sono da l'altra parte Probabilmente morirò, addio No, ma che fare, c'è solo uno, cioè Muoio, muoio Oh, finalmente Fatta Ok Vediamo un po', ne ho tantissime in electrical, però chi va in electrical, eh, muore Sì, è una regola, l'hanno scritta Sì, in quel posto, sì, buonanotte Allora Sono stanca! L'abbiamo capito Ho tutto il giorno impostore, sono stressata Io odio fare l'impostore, adesso non lo sono, ma sono stressata Porca miseria, sono stressata No, no, electrical ne ho un altro, però aspetta, vado a fare l'emergency Allora, Pere C'è nessuno qua Ci arrivi tu? Sì, io ci sono Ok Eri tu? Yes No No, 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 sono ad admin Ok Allora, due, uno Comunque per ora niente, neanche un corpo ho trovato Secondo me è morto a navigation qualcuno Faccio la colla Troppo tempo fermo, lo collo Allora Ehi Si è chiamato? Io Ok, Stefano Credo sia morto qualcuno a navigation, perché o è andato FK o è morto Cioè? Eh, tipo un minuto e mezzo fermo ad admin, quindi credo sia morto E uno è morto, quindi credo sia lui, non lo so C'è 78,92? Non ho capito niente Io o ne ho Adesso quello che sta dicendo Stef, perché ho visto 23,17 fermo in admin 8 ore Che ero anche io in admin Sì, esatto Ero lì e ho visto uno che a navigation ha troppo tempo fermo Un morto c'è, credo sia morto a navigation, non possiamo essere sicuri Ma a meno che non ci fosse nessuno di voi a navigation Chi è 47,65? Ehm, penso io Sì, sì Hai fatto il reattore con me, tu giusto? Sì Allora, io e Ferri siamo puliti Sì, ho fatto il reattore, sì, sì, sì Io ero in electrical Tu sei 6969? Sì Ti ho visto più volte, vero? Io ero in reattore Non ho visto né 2020 No, reattore non c'era Allora, io di 2020 sono abbastanza sicura Nel reattore? Sì, sono reattore Io 2020 però Sto già capendo più i numeri L'ho incrociato più di una volta Oh mio Dio Io ho visto 2020 fare la task main shield E' una task che non fake Io, sono io Mi sta avendo mal di testa con questi numeri, raga Anch'io non ci capisco nulla Che mal di testa Mamma mia Che mal di testa Io non ci capisco niente Cioè non mi ricordo manco E poi iniziano Io ero Il numero 4552 Mamma mia Allora, devo andare all'elettrica Allora, finire una task Che fatica, guarda Che succede? Niente Mi sembrava sospetto un atteggiamento Ho pensato di trovare magari un cadavere in sta zona Però niente, è pulito Non c'è nessuno Quindi Ok Appena mi sarei ricordata Che mi è appena passato vicino Quindi Le luci Allora Aspettate Che succede? No, niente Mi è sembrato di vedere il tasto report Invece no Le allucinazioni Non capisco niente Con sto bianco e nero Fate veramente c***are No Che succede? Dai, stavo iniziando Ho fatto il reattore Stavo finendo il reattore della tasca Che non mi avete fatto finire prima Sono tornato indietro In mezzo al corridoio C'era un cadavere Raga, io non riesco a fare le provette Anche io E' impossibile E' impossibile A fare le provette Raga, ma io dopo due ore Mi sono reso conto Che Shield Bisogna mettere E non togliere Prima E stavo diventando stupido Cioè Li confondi Comunque vi posso dire Che 2020 è pulito E anche 47,65 Secondo me Che è fiere Mi puzzano gli altri tre Però se Steph E' stato fermo veramente Un minuto e mezzo In admin Che è stato coperto Da Charlie Io vi posso dire Io vi posso dire Però una cosa Sinceramente Sono talmente lenti dei kill Che io in questo momento I sospetti li sto tenendo Un po' vaghi Perché Raga Passano veramente Due, tre minuti Per ogni kill Chi è 2205 Io Secondo me sei tu Vabbè comunque Ma cosa No io non lo so Io ho trovato solo un corpo Delirio questa cosa Allora Vabbè con le task Siamo a tre barre della fine Io ne devo ancora fare Non le ho finite Quindi Ok Ok ad admin Siamo in tanti Per fortuna Ci sono anche io Che sto facendo la task Lì sopra Vedi che sono ferma Ok ok Allora No Allora Ci possiamo muovere Tutti assieme Fere dove sei Sto andando Ok Morirò Aiuto Paura anche io Ok è stata fatta Ok Fere Che c'è Che c'è Che stavi urlando Vabbè che non l'ho visto Ma dove Dimmi dove A storage Stavo scendendo su Per electrical E ho sentito Cioè Non so come ho fatto A non vederlo Io avevo le telecamere Ma l'ho visto Posso dire una cosa Secondo me è Fere Non lo so Ho visto Perché Perché Fere Perché io sento In electrical E lei veniva Da storage In quel momento E c'era invece No raga Non ho iniziato A dire cosa erano Per favore Prima di tutto No no dai Fere sei arrivata Da Eh sì Perché c'ho le tasche Sono andate in electrical A finirle No 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 Perché Fere l'ho vista Prima Cioè ho incontrato Un sacco di persone Le avrei ammazzate 20 volte Sì Le avrei ammazzate Un sacco di volte 47 e 60 Eh raga Quando diciamo le persone Diciamo anche il numero Eh sì Raga comunque Secondo me invece No no Io Steph L'ho visto pulito L'ho visto Che era Che stava scendendo Uscito da admin E è andato giù Secondo me È uno fra Streff e Fere Io vi posso dire Che Nat È pulito Perché era di nuovo A Medway Anche io l'ho visto È impossibile Che stia feicando O se la feica Tutto il tempo Quindi Nat È l'unico Di cui sono sicuro pulito Adesso stanno votando A te Io non so Se sei tu No non sono io Stato Tanto mi infidero Così Fere Lasciatemi in pace Probabilmente sei tu Guarda Certo Sei troppo strano Sono sempre in admin Sì però hai chiamato E non hai visto una ceppa Dai È la self report Eh certo Probabilmente sì Va bene Ma non ti ho accusato Perché nel caso Non ti voglio rovinare la partita Però secondo me sei tu Certo Ma secondo te La faccio così Ma sono l'unica Che sta a fare le tasche Lasciatemi in pace E allora perché Non abbiamo ancora finito Chi manca Io ho finito Certo che non le posso finire Se poi ogni due secondi Cliccate emergency Ah io insomma Appiccico a qualcuno Così mi lasciate in pace Guarda Mi appiccico a tutti voi Vieni Andiamo Vi vediamo se sono io Vediamo Andiamo a security Andiamo tutti a Mad Bay va Come ci facciamo a Mad Bay Perché c'era un altro lì Chi Non lo so 20-20 20-20 Ah siamo tutti qua Bello Molto utile Ecco Già non ho spento le luci Ecco Perfetto Adesso vado Ci muoio Così la smettete di incolparmi Vado io Vado io Andiamo Siete tutti dei fifoni schifosi Vai Vado io Adesso ci muoio E va arrangiate Raga Ok Raga io sto Sto impazzendo Cioè ho fatto le luci Non vedevo niente Ho sentito Splat E basta Io non l'ho visto E vorrei capire come lo stai dicendo Ho visto Appena ti sono fatte le luci Certo Certo Hai visto perché Avevi le luci spente Però avevamo le luci spente Guarda non so neanche chi sei Ma mi stai accusando a caso Chi è nato Scusate Le ho fatte io le luci Natto Si vedeva una ceppa Io non lo sto capendo Cioè non si vedeva Natte Natte Stiamo vicini Sono 85 Adesso stiamo tutti vicini Vediamo chi è Dai Sei tu Più di così Non potevo farlo Maledetto Io che provo anche a coprirti È impossibile Uno contro Ma però te stai giocando stra bene Eh sì ma basta Non ce la faccio più Io l'ho sospettata solo all'ultimo Però io davvero non l'ho vista Perché con le luci Io non ho visto niente Allora Mi voti uno Se lo dico Ti dico chi votare Ok È l'unica modo per vincerla Va bene Vabbè dai Sì ti aiuto 8-2 8-5-2-4 8-5-2-4 Raga palisissimo Ma a me Ok aspetta C'è un microfono mutato Ah eh non capivo Ti hanno votato Ti hanno votato No dai ma perché Ha vinto Steph Perché non mi credono Che ti devo dire Ha vinto Steph Però è sotto tabella Allora So già che morirò presto Un brutto presentimento E non saprò neanche io stesso Chi mi ha ucciso Perché tanti numeri Mi li dimentico subito Oh accidenti Allora Emergenza Quale però Non capisco dei colori È tutto a destra Tutto a sinistra Scusa Reactor mi sembra Vedi che non si capisce niente È però vedo le frecce da quella parte Quindi Allora Ok Non c'è nessuno Ok Meno male che è arrivato uno Uff L'avete fatto Perché stavo lì Ok Che paura Allora no Quello non lo faccio No Mi hanno chiuso Devo sopravvivere Ah che paura Sei morto? No Però c'è uno che mi ospetta E me ne vado dall'altra Ok Corro via Corro via Corro via Corri Corri No è chiuso anche qui Aiuto È un pilmore Raga Dove? Sentite Ho trovato 1997 In storage Sono entrato Che Cioè mi hanno chiuso le porte davanti a storage Ok Quindi qualcuno era dentro con questo qua E Boh Non lo so Basta Ma eri tu che poi cercavi di andare verso le Io non ci capisco niente Non riesco a ricordarmi Ti incontro Io stavo andando verso Lower Engine E ho visto qualcuno che cercava di entrare Nella porta mia Poi però quando sono entrata Non c'era nessuno Quindi probabilmente Ha andato quella persona È la persona che Cioè Vedevi uno Porta contro porta? Sì Ok ero io E poi sono scappato Perché mi sta aspettando Michilla Quindi ok Tutto chiaro E come hai fatto a scappare? Sono salito Era aperta la porta sopra? No si è aperta E però ero attaccata a quella porta Per scappare Perché ha detto Se mi deve killare vado Quindi niente? No niente Io non ho visto nulla Allora Non ci ho capito nulla Come mi aspettavo Manco io Cioè tipo Io adesso so che Marcia Ha fatto Reactor con me Non so chiamarci È così Sì ma anch'io Stavo andando verso Reactor Ho visto le persone andarsene Riconosco solo te Perché hai il tuo numero E basta Gli altri Boh Siamo tutti con questa porta chiusa È certo Impossibile Molto bene Chiunque chiude tante porte Ho notato Gli piace chiudere le porte La passione delle porte chiuse Magari fa corrente Dà fastidio Uff Ok Allora 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 Devo andare qua Il più in fretta possibile Questa è la mia fine Lo so già Perché prima o poi queste cose Le devi fare nella vita Prima o poi devi trovare il coraggio No non ho chiuso le porte E morire malamente Perché le persone coraggiose nel mondo Muoiono È questa la storia che non vi raccontano nei telefilm Che stai a fare Che stai a fare scusami Task Dove Eh bene L'Electrical Ok Ok Uh Uh Entriamo subito Appena si riapre Forza forza Allora sono in compagnia sicura io Mmm Ok 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 Tutto a posto Andiamo andiamo Forza forza Siamo tutte le telecamere Ok Mmm 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 Allora Siamo tutti troppo compatti Non si sta a capire nulla Meglio 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 Ragazzi Come si fa Come si fa Cioè non ho capito Raga Io c'avevo lo spam del reportativo Lo sapevo che qualcuno faceva sta cosa Lo sapevo Eravamo tutti insieme Allora No 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 Ragazzi E poi è morta la persona con cui io stavo sempre Allora Molto sicuro Però potresti essere un traditore Sono molto sicuro Di 4, 5, 6, 7 Io sono 3, 6 3, 6 raga No Che noia Lo sai che lei non fa quella cosa Allora 4, 5, 6, 7 Ha fatto lo scattino Però Non lo so raga Non scriveva niente Visivamente Io ho visto 4, 5, 6, 7 Tentiamo Cosa dici? Te lo giuro Te lo giuro Io visivamente ho visto questo Nel caso è Steph Nel caso è Steph Eh anche nel caso Sono due impostori Vabbè Io sono un bravo ragazzo Ma vai via Evidentemente no Brava Fere Sì Era Fere Sì Sì Allora Sapete cosa è successo Mi sta hackerando il computer No sapete cosa è successo Non riuscivo a fare kill Raga però perché avete ucciso me Mi stavo divertendo troppo Aspetta Fere spiega io Allora Io non riuscivo a fare kill Perché eravate sempre in gruppetti Ho visto il mio compagno impostore L'ho seguito Perché ho detto Così ci facciamo la doppia E non lo so Ho comunicato telepaticamente Abbiamo fatto la doppia Ma chi è l'altro morto Ero io Ero io Eri tu Io non lo sapevo Io ti ho seguito Perché ho detto Cavolo Così facciamo la doppia Non so come ci siamo capiti L'abbiamo fatta Bellissimo Non ci ho capito nulla Avete ucciso la persona sbagliata Ho cliccato a caso Era qualcuno di voi a caso Lì in mezzo Mi spiace